Pranica sono le trentacinque, tu guarda Dio! Allora, posso restare qui? Un numero che non esiste, bravo! Cinque... Cinque dieci! Ah, meglio, ci sei buono! Nooo! Dio da dieci euro! Cinque? Cinque! Dici euro mi devi! Asho un confrano a carna cumpla! Grande, baby! Nostro cantante! Oh, mandiamo il saluto! Sai chi è lui? Sai chi è lui? Quello alto, piccolino! E' lui il pleg alto! Quello alto, piccolino! Freschissimo! Bene! Quindi signor Moib Io l'avviso che lei ha la facoltà di non rispondere Cosa intende fare? Scelgo la facoltà di non rispondere Cosa intende fare? Cosa intende fare? Siamo in dieci in questa casa! Adesso in nove, otto che vogliamo uscire! Uno no! Ma che cazzo facciamo qua? La tarantella! Siamo in cazzo! Cazzo, fumi le canne? Sì, ancora! Ancora con i cittadini di madre! Ciao, baby! Questo video lo guarderai molto probabilmente quando me ne sarò andato Ti voglio bene, Fatima Non va bene, mamma! Come si ragazzo? Cazzo, come fai! Voi fai con당, eh? Voi fai con당! 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 Cazzo! Cazzo, come fai? Maro, maro! Oh, oh! ragazzi il ragazzo è scappato ha deciso di prendere l'altra metro ma lui non sa che noi siamo a qui che puttano fammi uscire zio guarda annusa la scella di uno famoso cosa succede cos'è che succede tutto questo puttanaio qua questo ragazzo qua cosa succede c'era una figa zio che mi ha visto mi ha detto che ha quel figo fra per cosa per cosa veramente scassi ve la siete scambiati la ragazza per cosa con me stagio non sa bene ma c'è cosa è accretto cosa chanelle qui? chi vuole il nome lo scherzi cristiano non il gelo il nome di lavoro io posso sentire una cosa con il nome di quello che mi hanno detto non è unemergetario no